Il pellet è diventato caro come l'oro e io credo che siamo di fronte ad una speculazione. Inizia così un post del sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli che ha dato il via ad una sua personale battaglia a fianco dei consumatori. Noi stessi nelle scorse ore avevamo incontrato un rivenditore e anche secondo chi tratta questo materiale commercializzandolo, la speculazione c'è e come. Diciamo che voi siete vittima di un'eventuale, se c'è speculazione comunque alla fonte. Io penso che i grossi speculatori qui siano i produttori, direttamente le aziende produttrici che sicuramente avranno i loro aumenti perché è chiaro che come vediamo noi come privato cittadino aumenti in bolletta, è chiaro che anche le aziende avendo magari un consumo di corrente industriale avranno i loro aumenti impattanti, questo è indiscussa, la cosa è indiscussa. Però gli aumenti sono veramente eccessivi perché se arriviamo noi come rivenditori a dover acquistare materiale a 10,43 euro che veramente non si può manco sentire. Si partiva inizialmente con costi, io parlo d'aprile, di acquisti che noi facevamo tra le 5,40 euro e le 5,60 euro che erano comunque alti. Quindi va detto che i ricarichi nel pellet sono bassi, però passare da 5,60 euro ad acquisto evato, a 10,43 euro la strada è lunga. Così come sta avvenendo con altre materie, prosegue Agnelli con la giustificazione della guerra in Ucraina, il prezzo è stato praticamente raddoppiato addirittura come in questo caso sulla previsione di consumi che di solito iniziano in autunno. Ho deciso di attivarmi come sindaco a difesa dei consumatori presso le autorità competenti, segnalando tutti gli episodi di evidente speculazione a danno dei cittadini. Agnelli mette a disposizione la sua mail sindaco-comune.castedionfiorentino.ar.it Qui potranno essere segnalati prezzi anomali di beni o servizi. Non sarà un modo utile, conclude a contenere la costante perdita di potere di acquisto delle famiglie, ma vorrei combattere chi da questa difficile congiuntura ne vuole trarre un ingiusto profitto.